Ciao Patrick, ciao Patrick, ciao Patrick, ciao Patrick. Allora no, io volevo salutarti perché da quello che so rispetto alla Roma sta andando molto meglio in Germania. Io ieri leggo qualche dichiarazione di Patrick Schick, resto piuttosto basito, basito è il termine corretto, resto basito. Resto basito, resto basito guardando gli articoli che vanno a parlare di Patrick Schick e delle parole di Patrick Schick che sinceramente con tutto il rispetto, con tutto l'amore del mondo, con tutto quello che te pare a te devi stare zitto, devi stare zitto, devi stare zitto. Tu sotto questo punto di vista non hai la possibilità di esprimerti, non ce l'hai, non ce l'hai, ok? Perché la Roma ha dato tutto quello che poteva. Dicevo, se tu sei un citofono di merda, che questo qui a confronto è una lavagnetta, allora, allora, sinceramente devi stare zitto, non puoi esprimerti. Ora, Patrick Schick parla, perché parla anche, capito, a Roma non parlava mai, ma addirittura parla, lui parla, lui si diverte e parla. E dice, beh l'Ipsi è meglio di Roma, qui giochiamo bene, giochiamo a pallone, giochiamo a un tocco, abbiamo voglia di titoli, abbiamo fame di titoli a differenza di Roma. Ma fame di titoli cosa? Cosa? Cosa che l'Ipsi ha? Mi manca mai vinter il campionato di Serie C. Cosa, Santi? Io mi devo sentire anche inferiore ad un calciatore che gioca nell'Ipsi? Eh sì, che me l'Ipsi è secondo, sti cazzi? Sti cazzi io sarei primo in Bielorussia, ok? Che me ne frega? Cosa me ne frega che l'Ipsi è secondo? In Bundesliga faccio la squadretta dei paesi, arrivo in Champions. Ma cosa mi significa? Che oltre il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund non ci stanno squadre in Germania. Non ci sono, eh, non ci sono, non ci sono squadre in Germania. Perché? Perché sì, si vede, il Werder Bremen arriva a ventesimo, cioè il diciottesimo, Nanno arriva a terzo, poi l'anno dopo l'Hoffenheim si serva per un punto, poi il Van Champions, poi arriva il diciottesimo, cioè, regà, è così perché si equivalgono più o meno tutte come a Serie B, ok? E a me, Schick mi viene a fare la morale. Allora, Roma, Patrick, caro Patrick, caro Patrick, tu sei andato? Caro Patrick, lavati la faccia, pulisci tela la faccia, caro Patrick. Tu sei andato? Tu sei andato alla Juventus, hai firmato per la Juventus, cioè non hai firmato, sei andato a firmare per la Juventus, hai fatto la foto sorridente con la maglia della Juventus, tutto contento, tutto felice, pronto a firmare il contratto. La Juventus ti ha frienzonato. La Juventus ti ha detto, guarda, te non stai bene, tornatene a casa che non stai bene, ti ha dato uno schiaffo che ti ha rovinato la carriera. Con quella frase tu potevi rimanere per l'eternità alla Sampdoria, giocare alla Sampdoria e basta. Perché non ti comprava più nessuno? Non ti comprava più nessuno? Perché la Juventus aveva dato uno schiaffone così tanto forte da far crollare, crollare la tua credibilità. La Roma ha speso 40 milioni di euro perché ha puntato su di te. Tu dovresti ringraziare, tu dovresti ringraziare perché ora voi direte, sicca ma cosa ha fatto scicca la Roma? Niente, non ha fatto niente, è questo il problema, non ha fatto niente. Non ha fatto niente, ha fatto più Stefano Caca a Roma che Patrick Scicca. E purtroppo non sto scherzando, ok? Abbiamo fatto la Schick Challenge a Roma, ma non mi fate incazzare. Non mi fate incazzare, abbiamo fatto la Schick Challenge, la Patrick Challenge, che buttava nel palone in mezzo e cerchiamo di far segnare. E non segnava, manco con le mani, ok? Non la buttava dentro manco per sbaglio, ok? E lo so già cosa sto dicendo, beh ma, sicca però, la Roma lo faceva di giocare alla. Regà, a parte che ha giocato pure punta, a parte, e comunque era una busta di piscio, a parte. Ma poi, ma di che cosa vogliamo parlare? Quando è un giocatore della Roma io posso dirlo, guardate regà, che alla non rende, perché se gioca punta fa un po' meglio. Però l'esempio mi viene magari dato da giocatori, che, sì, magari punta farebbero leggero... De Frel, ad esempio, De Frel è quello, ok? De Frel erano attaccate da accompagnamento, una punta, era una punta, De Frel. Certo, a Roma avrebbe fatto meglio se avesse giocato punta, però anche ala, insomma, non è che mi aspettassi grandi cose da De Frel, era De Frel, ok? A me non è che mi potete spacciare Patrick Schick per il nuovo Batistuta, con i capelli in lì con la frangia, con il ciuffo, il nuovo Batistuta, il nuovo Gabriel Omar, e poi se lo metto un attimo un po' più di là, se lo sposto là, diventa una busta di piscio. Non che poi da punta avesse fatto grandi cose, e allora non stiamo qui a parlare di questo, e allora, ragazzi, parliamo di tutt'altro. Cioè, ma di che cazzo dobbiamo parlare? E voi direte, quale vantaggio? Quale vantaggio ha preso Patrick Schick dalla Roma? Voi dico di quale vantaggio? Da quando la Roma, porca troia, ha sborsato 40 milioni di euro per prendere Patrick Schick, il valore di Schick si è irrimediabilmente alzato. Ed è così! È così! Punto e basta! Il giocatore può anche far cagare duro come ha fatto, perché Schick ha fatto cagare duro, io non lo sopportavo più, non ce la facevo più, ok? Schick può anche aver fatto cagare duro, sono d'accordo con voi, ma dal momento in cui la squadra ti preleva per 40 milioni di euro, se prima valevi 8, irrimediabilmente il tuo valore si alza, non a 40, ma magari a 20, ma magari a 25. Perché, raga, è così! Il valore del giocatore, l'ho detta, la legge di mercato. La legge di mercato. Il prezzo speso, purtroppo, fa il calciatore. Vi faccio un esempio. Ad oggi, quanto vale Fuzzato? Fuzzato vale 500 mila euro. Se adesso il Liverpool si presenta dalla Roma e paga 30 milioni per Fuzzato, inevitabilmente tutte le big d'Europa, e anche ovviamente d'Italia, d'Inghilterra, tutte le altre squadre, danno un'occhiata a questo Fuzzato, perché è stato pagato 30 milioni di euro. Il calciatore ha un valore che necessariamente si alza. Si alza. Schick è diventato un calciatore che fa la Champions. Da quando sta a Roma? Perché la Roma ha fatto quell'esborso. Se la Roma l'avesse lasciato lì a morire alla Samp, magari avrebbe trovato altre vie d'uscita e probabilmente la Togherina sarebbe andata meglio. Però non lo so, raga. Però non lo so. Però non lo so. Intanto porta rispetto a chi t'ha lanciato. E poi a Schick. Stai segnando. Complimenti. Che ti devo dire? Complimenti. Noi a Roma stiamo passando un periodo di merda e va bene. Ma va detto anche che ci sono alcune squadre. Allora Ciccio Caputo che è Reggio Emilia fa gol oggi sì e domani pure. Che cosa deve dire? Cosa deve dire? Deve dire che io però sono meglio perché faccio più gol. Intanto vorrei vederti per bene e vedere quanto aiuti la squadra o se segnite punta all'ultimo. Intanto. Se fai gol solo sul 3-0. Intanto. Ma al di là di questo sono discorsi che mi danno urto. Sono discorsi che mi danno urto. non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Sempre di dover... Cioè tra tutti e tutti. Tutti. Tra tutti. Quelli che possono rompere i miei coglioni non c'è Patrick Schick. Me li può rompere Scesni perché abbiamo scelto di non ricomprarlo. Me li può rompere... Che ne so. Pjanic. Perché abbiamo messo a Clausola e non abbiamo creduto nel progetto. Me li può rompere... Ma pure Dumbiame li può rompere perché non abbiamo mai creduto in lui. Ma Schick non me li può rompere. Schick non può rompere i coglioni ad un tifoso della Roma. Quando a Roma è arrivato Schick abbiamo comprato tutti la maglietta dei Schick. Ci siamo tutti la maglietta dei Schick. Che cazzo ci temo fa che ha la maglietta dei Schick a Roma? Io adesso lo uso come cencio. Ci pulisco a terra. Sto scherzando ovviamente. Santi Dio. Patrick Schick. Abbiamo comprato tutti la maglietta. tutti e il nuovo bomber della Roma Patrick. Quando è entrato tutti Schick. Tutti in piedi. Ovazione. Quello e quell'altro. Un anno di merda. È arrivato rotto. Si è rotto di nuovo. Sottoporta non segnava manco con le mani. Regà. E quando giocava alla perché giocava... Allora io me lo ricordo a Roma. Giocava alla però ragazzi lui aveva una punta. Giocava punta però lui aveva una punta da 4-3-5-2 o da 4-4-2 o da 4-3-1-2 o da 4-2-1-3 o il cazzo che vi pare a voi no 4-2-1-3 no ma non è una punta con le due ali ma è una punta da accompagnare ma che abbiamo preso Ibra che abbiamo preso Cristiano Ronaldo cioè ti adatti figlio mio ti adatti se no vai nelle squadre quelle che hanno un modulo solo quello che ti piace a te e fine tra l'altro so 10 le squadre in Europa che usano le due punte 10 10 non che siano male però so 10 cioè cioè non è possibile non è possibile e devo sentirmi rompere i coglioni anche da Patrick Schick cioè io sono senza parole io sono senza parole pure le purci hanno la tosse io sono senza parole veramente comunque se non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale lasciate mi piace mi raccomando seguitemi seguitemi anche su TikTok su Instagram seguitemi sul mio secondo canale lo trovate in descrizione oggi esce un altro video mi raccomando stavo per morire grazie per aver visto questo video guasciala dall'alane come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao raga Schick ciao